Chi mi segue sa che ho fatto uscire in questi giorni questi water tattoo, che sono tatuaggi finti ad acqua, tipo quelli delle patatine e volevo tranquillizzarvi su una cosa. Vedete che qua, adesso io mi sto facendo un video, il video è specchiato e si legge Ohana, ok? Se io li guardo così c'è scritto Anna Ho! Adesso tornano dritti, ok? Per il semplice motivo che quando voi li ritagliate e vi li stampate nel braccio, li stampate storti. Quando voi andate a stamparveli nel braccio, ritornerà la bellissima scritta Ohana, che dopo lo so, quello stesso qualcuno verrà a scrivermi nei messaggi Samantha hai sbagliato a stamparmi in water tattoo, non si legge Ohana. Certo, certo, l'ho fatto apposta, non vi preoccupate, è giusto così. La sera invece nel braccio si leggerà tutto magicamente, quindi non vi preoccupate, sono fatti apposta. Baccioni!